Il corso di guida sicura Una perdita di aderenza nell'asse posteriore Ci siamo riusciti? È andata bene, sì Freddezza nel continuare a guardare il mio obiettivo Dove voglio andare Perché poi il controsterzo Che è la manovra da fare sul volante Verrà di conseguenza Adesso simuliamo una frenata in emergenza Abbiamo strada libera Si presenterà un ostacolo improvvisamente Eccolo Freniamo fortissimo E andiamo a evitarlo Un ostacolo improvviso È simulato da una colonna d'acqua Ma potrebbe essere rappresentato da Un pedone, un ciclista, un animale Possiamo fare tantissimi esempi reali Il nostro obiettivo è Arrestarci nel minor tempo possibile E scartare l'ostacolo guardando la via di fuga Come abbiamo fatto per evitarlo? La prima cosa è Una massima spinta sul pedale del freno Poi quando capiamo Che non riusciamo ad arrestare la vettura Prima di questo ostacolo improvviso Andarci a cercare lo spazio libero E indirizzare la macchina Mantenendo sempre una gran spinta sul pedale del freno In che modo la velocità incide sui rischi Che incontriamo quando siamo alla guida? Beh, sicuramente incide in maniera impattante All'aumentare la velocità Aumentano esponenzialmente Ad esempio gli spazi di arresto Durante una frenata d'emergenza E anche i nostri tempi di reazione sono diversi? I tempi di reazione non sono diversi È diverso lo spazio percorso della macchina Nel nostro tempo di reazione Qual è il tempo di reazione media Di un automobilista alla guida Quando si verifica un ostacolo imprevvisa? 8 decimi Ti faccio notare Alessandro Che in 8 decimi Una vettura che si muove a 90 km orari Percorre all'incirca 25 metri Se andasse a 30? Se andasse a 30 ne percorrerebbe poco meno di 8 Molte città in Italia ultimamente hanno introdotto Il limite dei 30 all'ora all'interno del centro urbano La velocità, quanto è un elemento di rischio alla guida? Il fattore velocità è uno dei principali Che unita alla distrazione del guidatore Potrebbe essere comunque fatale Per il guidatore ma soprattutto per quelli che sono gli utenti deboli della strada Ad esempio i pedoni I ciclisti E quindi è importantissimo non risolvere un'eventuale situazione di pericolo Ma cercare di lavorare sempre in prevenzione E quindi è un'eventuale situazione di pericolo